Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi faccio vedere come realizzo il trucco che indosso in questo momento che diciamo è il my go-to look cioè il trucco che indosso quando voglio essere in ordine appunto in questo periodo come vedete non è un trucco super mega costruito sono andata più sul naturale ultimamente, soprattutto da quando è arrivato un po' più di caldo sono passata a un trucco più leggero anche se come vedete c'è tutto quello che ci deve essere soltanto che sugli occhi, non lo so perché ma in questo periodo mi sento super mega basic cioè ho veramente un ombretto leggerissimamente sfumato eyeliner e ciglia finte cioè il punto focale del trucco sono l'eyeliner e le ciglia finte, nient'altro il resto è tutto naturale prima di iniziare con il tutorial voglio sottolineare una cosa questo non è un mi preparo in 5-10 minuti la mattina, no è uno di quei trucchi che realizzo quando ho più tempo e voglio prepararmi a essere in ordine cioè voglio avere la base fatta, gli occhi fatti bene e anche ovviamente le labbra però non ci metto sicuramente 5 minuti a fare tutto questo senza chiacchierare di più vi lascio subito alla realizzazione di questo trucco iniziamo il nostro trucco dalla base quando utilizzo dei fondotinta leggeri so già il fondotinta che andrò ad applicare dopo ed è questo qui di Bourjois Healthy Mix Foundation e appunto quando applico dei fondotinta leggeri il correttore per correggere l'occhiaia lo metto prima del fondotinta vado a prendere quindi il mio correttore color salmone e lo applico solo dove l'occhiaia è scura appunto per andare a correggere l'occhiaia ora come vi dicevo applico il mio fondotinta lo metto direttamente sul viso lo stendo con un pennello e poi ci tampono sopra una spugnetta per cercare di far aderire benissimo il fondotinta alla mia pelle in modo che l'effetto sia davvero naturale e in questo modo assorbo anche l'eccesso del fondotinta andiamo ora ad illuminare le occhiaie e i punti centrali del viso per farlo utilizzo il Fit Me di Maybelline il mio è nella colorazione 15 e lo applico appunto nella zona delle occhiaie come base per l'ombretto quindi lo metto leggermente qui sulla palpebra poi lo metto al centro della fronte e sul mento fisso tutto il viso con una cipria in polvere libera fisso la zona delle occhiaie con una spugnetta e il resto del viso con un pennello da un leggero effetto abbronzato con la terra di Wet n Wild questa terra mi sta lasciando un po' così nel senso che quando ho iniziato ad utilizzarla mi piaceva un sacco adesso più la utilizzo e più non mi piace quindi mi consigliate per favore una buona terra una terra che utilizzate e che vi trovate bene qui sotto nei commenti perché diciamo che io non ho mai trovato la terra dei miei sogni quella fantastica che non lascerei mai è uno di quei prodotti che diciamo mi accontento mi accontento di quello che trovo ma non sono mai pienamente soddisfatta con questa terra do l'effetto abbronzato quindi la metto all'attaccatura dei capelli la concentro leggermente di più qui sulle tempie passo un po' sul naso con il pennello scarico e poi la concentro nella zona dello zigomo in questo modo do un effetto abbronzato al mio viso in modo naturale utilizzo il Butter Bronzer di Physicians Formula questo qui nel colore light e siccome ha un colore freddo diciamo più tendente al tortora do un effetto cioè vado a scolpire il viso ma siccome non è una terra molto molto pigmentata l'effetto che esce fuori è ancora una volta nature ora applico il blush io utilizzo questo qui di Elle Girl che si chiama Just Blushing nel colore Just Playful e lo applico sui miei zigomi prima di cambiare pennello aspetto un attimo prendo l'illuminante con lo stesso pennello del blush lo prendo in modo leggero e lo passo un po' così su tutto lo zigomo questo qui non mi ricordo in che video l'ho fatto mi sembra nel tutorial del trucco di Megan Markle del matrimonio e mi è piaciuto tantissimo l'effetto quindi da quel momento lo sto facendo praticamente sempre e appunto con il pennello del blush anche se c'è il prodotto sopra non mi interessa prendo leggerissimamente l'illuminante vedete che quello che esce fuori è un effetto super luminoso un po' di tutto il viso ma in realtà non si vede che ho applicato l'illuminante su tutto il viso poi prendo il pennello dell'illuminante e questa volta lo applico come faccio sempre sullo zigomo anche se ragazzi vi devo dire che ci sto andando più leggera con l'illuminante e lo sto sfumando un po' su tutto lo zigomo non sto lasciando quasi mai la solita striscia dell'illuminante che facevo prima prima di continuare con il trucco degli occhi realizzo le sopracciglia dipende, navigo un po' tra il brow pot di Nabla oppure la combinazione matita di Nabla nel colore Jupiter e il, come si chiama questo qui? brow model di Neve Cosmetics nel colore Lisboa Ebony pettino le sopracciglia all'insù poi le riempio con la matita e una volta che ho finito con la matita ci passo sopra il brow model di Neve Cosmetics anche le sopracciglia sono finite adesso utilizzo il Brighten Up di Essence che è questa polvere qui che dovrebbe essere utilizzata per fare i punti luce sul viso e la prendo con la spugnetta con cui ho applicato la cipria qui sotto l'occhio, non riesco a parlare, aiuto praticamente prendo un po' di questa polvere e la applico su tutta la palpebra superiore dall'attaccatura delle ciglia fino al sopracciglio potresti anche applicare soltanto la cipria potresti applicare un ombretto però vedete come viene super luminosa tutta la palpebra superiore adesso dalla Soul Blooming di Nabla prendo il colore questo qui che è una specie di giallino marroncino e lo applico con un pennello da sfumatura ampio questo qui diventerà una specie di colore di transizione che praticamente va a fare stacco con il chiaro che ho applicato su tutta la palpebra superiore in realtà non si vede poi neanche così tanto vedete che non è che dà un effetto super definito o di colore pieno è veramente una cosa leggerissima per dare definizione alla piega dell'occhio stesso colore ma pennello più piccolo questa volta lo passo nella parte inferiore ora vado a realizzare una riga di eyeliner solitamente o applico l'eyeliner in gel di L'Oreal oppure utilizzo la matita di Essence nera questa qui è automatica e per fare la codina finale visto che con la matita non riesco a creare una punta super definita utilizzo l'Epic Ink Liner di NYX che appunto metto solo nella parte finale della codina per creare una punta super mega precisa ora applico la matita dall'angolo interno fino all'angolo esterno poi con un pennello angolato cerco di creare una piccola codina appunto con la matita stessa e poi mi aiuto con l'eyeliner per dare definizione con lo stesso illuminante che ho applicato sul viso realizzo il punto luce qui nell'angolo interno dell'occhio ora applico il mascara solo sulle ciglia superiori e poi applico le ciglia finte come ciglia finte utilizzo le Ardell 252 non vi faccio vedere come le metto già ho fatto il tutorial su come applicare le ciglia finte che vi lascio cliccabile qui il trucco degli occhi è praticamente finito manca soltanto un po' di mascara sulle ciglia inferiori come mascara sto utilizzando sempre il World The Hype di NYX se non l'avete provato dovete assolutamente farlo a chiunque l'ho consigliato poi mi ha detto Giulia è fantastico quindi mi raccomando se cercate un buon mascara volumizzante e allungante provatelo perché io non me ne riesco più a separare sulle labbra non applico sempre la stessa cosa diciamo che sto girando più intorno ai nude che sui rossetti più forti anche se secondo me appena prendo un po' di sole con un leggero velo di abbronzatura ritornerò sui rossetti rossi, sgargianti o comunque più accesi oggi applico prima la matita di NYX questa qui è nel colore se non sbaglio Peekaboo Neutral sì e poi applico il Velvet Teddy di MAC e ora ragazzi questo qui è il trucco terminato spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile spero che ricreerete questo look se appunto il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io vi mando un grandissimo bacio come sempre e ci vediamo nel prossimo video ciao